Ciao a tutti, dato che molti di voi mi hanno chiesto come capire se il proprio partner è un narcisista, ho pensato di approfondire questo argomento molto delicato esponendovi tutti i criteri diagnostici utili per comprendere al meglio il disturbo narcisistico di personalità. Inizio con il dire che il disturbo narcisistico di personalità viene diagnosticato principalmente sulla base dei criteri diagnostici elencati nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, DSM-5, che è il principale strumento diagnostico utilizzato dagli psichiatri e dagli psicologi. Per soddisfare i criteri diagnostici del DNP un individuo deve manifestare almeno cinque dei seguenti nove tratti. Un senso grandioso della propria importanza. Sono speciale e unico e posso essere capito solo da persone o istituzioni altrettanto speciali. Preoccupazione per fantasie di successo illimitato, potere, bellezza o amore ideale. Mi vedo come la persona più potente e affascinante di sempre. Credenza di essere speciale e unico e di poter essere compreso solo da persone altrettanto speciali o di alto status. Solo poche persone nella storia sono state al mio livello. Richiesta di ammirazione eccessiva. Ho un bisogno costante di essere ammirato e lodato. Aspettative sproporzionate di favori speciali e di sottomissione automatica agli stessi. Gli altri dovrebbero fare automaticamente ciò che chiedo. Sfruttamento interpersonale. Sfruttamento degli altri per raggiungere i propri obiettivi senza preoccuparsi degli effetti negativi che possono provocare alle altre persone. Mancanza di empatia. Mancanza di interesse o preoccupazione per i sentimenti e bisogni degli altri. Invidia degli altri o credenza che gli altri siano invidiosi di loro. Le persone sono gelose di me. Comportamenti o attitudini arroganti e presuntuosi. Gli altri sono fortunati ad avere la mia compagnia. Scoprire di essere in una relazione con un arciso può essere un momento difficile e sconcertante. La gestione di una relazione con un individuo con tratti narcisistici richiede attenzione e cura poiché le dinamiche possono essere complesse ed emotivamente intense. Ecco alcune linee guida che potrebbero aiutarti a gestire questa situazione. Il primo passo è accettare la realtà dei fatti riconoscendo che il tuo partner potrebbe avere dei tratti narcisistici. Questo può essere un processo emotivo non facile ma è fondamentale per affrontare la situazione in maniera concreta. Impara a conoscere i tratti e i modelli dei narcisi. Comprendere meglio cosa si sta affrontando può aiutarti a percepire gli atteggiamenti del tuo partner e a prendere decisioni sicuramente più costruttive. Ricorda che hai il diritto di essere rispettata e amata. Non c'è spazio per abusi o manipolazioni in una relazione sana. Fai attenzione a non lasciare che il narcisista calpesti i tuoi confini ed eserciti il controllo su di te. Cerca il sostegno di persone di fiducia come amici o familiari che possano offrirti un ascolto e un supporto emotivo durante questo momento difficile. Può essere utile anche consultare un terapeuta specializzato in relazioni abusive o narcisistiche. Tieni bene a mente che non sei responsabile per il comportamento del narciso. Non lasciare che lui o lei ti facciano sentire inadeguata o colpevole. Prenditi cura di te stessa e cerca di mantenere alta la tua autostima. Stabilisci confini sani e non permettere al narcisista di oltrepassarli. Sia assertiva nella comunicazione e fai valere i tuoi bisogni e i tuoi desideri. Comunica apertamente con il tuo partner ma si consapevole che i narcisi possono avere difficoltà a comprendere o accettare le tue esigenze emotive. Cerca di esprimere i tuoi sentimenti in modo calmo e deciso. Evita il confronto diretto con il narcisista poiché potrebbe assumere atteggiamenti pericolosi per la tua incolumità. Non essere accusatoria e concentra la comunicazione sulle tue esperienze e sui tuoi sentimenti. Prenditi del tempo per te stessa praticando attività che ti piacciono e che ti aiutino a rilassarti e a riprendere le energie. Coltiva le passioni e ritrova il tuo equilibrio emotivo. Valuta le varie opzioni come ad esempio se la relazione diventa tossica o dannosa per te potresti prendere in considerazione la possibilità di allontanarti. Lasciare una relazione con un soggetto di matrice narcisistica può essere molto difficile ma ricorda che la tua salute e il tuo benessere sono fondamentali. Pensa al tuo futuro e rifletti su cosa vuoi dalla tua vita e dalla tua relazione. La consapevolezza delle tue esigenze e dei tuoi obiettivi può sicuramente guidarti nelle decisioni future. Inoltre valuta attentamente la tua situazione e se necessario considera l'opzione di ottenere un supporto legale o una consulenza psicologica. Per giunta devi fare molta attenzione perché i narcisi possono essere molto pericolosi e dannosi per le persone che li circondano. Questi individui hanno un grave disturbo della personalità che non deve mai essere sottovalutato. Il comportamento manipolativo e controllante dei narcisisti porta soltanto dolore e devastazione. Hanno un unico scopo di vita che è quello di abusare emotivamente e psicologicamente di chiunque entri a far parte della loro cerchia e spesso e volentieri utilizzano la violenza fisica come mezzo per ottenere ciò che vogliono. Inoltre non scordare che i narcisi non provano alcun senso di colpa per le loro azioni e non hanno regole morali o di pudore nel compiere qualsiasi gesto e per questo possono causare danni significativi alla salute mentale e al benessere di coloro che li circondano. I partner di narcisisti spesso sviluppano problemi di autostima, depressione, ansia e altri disturbi psicologici a causa delle relazioni abusive che hanno avuto con questi soggetti. Lasciare un narcisista non è solo liberarsi da una persona che ti fa del male ma è anche un atto di amore per te stessa. Meriti di essere felice, amata e rispettata. Non permettere mai a nessuno di rubarti la tua luce interiore. Abbi il coraggio di andartene perché solo così potrai fare spazio a qualcuno che ti amerà veramente per quello che sei. Non arrenderti mai. E tu hai scoperto se il tuo partner è affetto dal disturbo narcisistico di personalità? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.